Un edificio residenziale di Shimbashi, nel quartiere di Minato. Un gruppo di truffatori immobiliari attivo in tutto il paese, così hanno rubato 2 miliardi di yen a una ditta immobiliare. E la polizia non è ancora riuscita a individuare nessuno di loro al momento. Bene, vogliamo iniziare? Stiamo puntando i 3200 metri quadrati di terreno vicino al tempio. Ma qual è il prezzo di mercato? Potrebbe arrivare a 10. 10 miliardi di yen. Fantastico. Se prepariamo una trappola ci sarà sempre una preda. Se c'è un piccolo terreno libero, bisogna combattere con ogni mezzo a disposizione per riuscire ad averlo. La proprietaria vuole venderlo sul serio? Già sento l'autore dei soldi. C'è qualcosa di strano in tutto questo. Non è che potresti farmi un favore? È un bersaglio adeguato per noi. 3 2 2 1 Fatto. Fa attenzione. Non si potranno sfuggire. 10 miliardi. Ma se non decidete subito, ci sarebbero altre aziende interessate. Stai sicuro che non sia una truffa? Non esiste il rispetto della legge durante una guerra. È stato assassinato di sicuro. Un vero matto. Mi prendi in giro? Ma che vuoi? C'è stato un imprevisto, purtroppo. È solo colpa tua. Jimenchi, i maghi della truffa. Io non sono un lurido truffatore.